Limitare i costi, monitorare le reti ed evitare la dispersione di acqua. Sono questi benefici che Aset S.p.A. riuscirà a garantire a Fano entro la fine dell'anno, quando un utente del servizio idrico su tre potrà beneficiare della telelettura. Grazie a un apposito trasduttore, la società di servizi potrà controllare da remoto i consumi relativi al singolo contatore, con tutta una serie di vantaggi economici e ambientali. Sono già state coperte tutte le grandi utenze del territorio fanese, vale a dire quelle con maggiori consumi. Ad oggi nella città della Fortuna sono circa 5.000 i contatori teleletti, di questi 4.500 si riferiscono a utenze domestiche. Un progetto che già esiste su Fano, vogliamo solo far presente il funzionamento di questo sistema che secondo noi è rivoluzionario e inserire praticamente i quartieri nei quali viene applicato. Il progetto è quello di attuare su tutto il territorio del Comune nei prossimi due anni, tutti questi contatori telecontrollati, in modo di dare la sicurezza ai cittadini di essere monitorati 24 ore su 24 e quindi evitare perdite e evitare di sprecare la risorsa idrica che è sempre più importante. Le località fatte fino ad oggi fanno due, c'è Lido, c'è Centinarola che viene fatta in questo momento e c'è tutta la parte a nord della Flaminia. L'anno prossimo verrà fatta tutta la parte a sud della Flaminia fino al Ponte Metauro e poi piano piano anche tutte le frazioni. Il monitoraggio continuo consentirà di intervenire subito evitando che eventuali perdite si riflettano pesantemente sull'importo in bolletta. La telelettura consente inoltre una maggiore trasparenza, infatti i consumi aggiornati su base settimanale saranno presto consultabili, previ a registrazione sul sito sportelloweb.asetservizi.it. Via radio vengono trasmessi le letture dei contatori ad una rete fissa praticamente, siamo arrivati a un 20% dell'utenza del comune di Fano, fine anno arriveremo al 30% e il prossimo anno dovremo arrivare al 50% dell'utenza del comune di Fano. Quali sono i vantaggi? Abbiamo tre letture al giorno per cui noi possiamo monitorare l'utenza, possiamo individuare le perdite interne degli utenti e avvisarli per tempo, possiamo evidenziare dei blocchi contatori, possiamo evidenziare i riflussi e quindi evitare degli inquinamenti verso la rete e niente, altre cose, anche la frode nel senso che se vengono staccati questi apparecchi noi ci accorgiamo. È una tecnologia nuova per cui la incentiveremo fino ad arrivare, come ha detto il direttore tecnico Romei, al 90% dei tre comuni gestiti da ASE che Fano, Mondolfo e Monteporzio nel giro di 5 anni per un investimento di circa 300 mila euro l'anno. Resta comunque valido l'invito a monitorare il proprio contatore almeno fino a quando non saranno tutti in telelettura, sono infatti ancora numerose le perdite occulte non segnalate tempestivamente dai privati, è sufficiente una lettura periodica dei consumi e in caso di anomalie darne immediata comunicazione ad ASET SPA. Questo investimento di ASET è assolutamente importante, serve a mettere in atto politiche per il risparmio idrico, serve a rendere l'utente più consapevole e a capire come gestire la risorsa idrica. Noi parliamo tanto di siccità, problema dell'approvvigionamento, però abbiamo bisogno di dati per capire come impostare determinate politiche. Vanno bene gli slogan, vanno bene gli approfondimenti ma a un certo punto corrono dati per mettere in campo politiche atte a conservare questa risorsa preziosissima che è l'acqua, non ce ne scordiamo.